La taurina deve il suo nome al fatto di essere stata isolata per la prima volta nella bile del Thor. Tutti la conoscono per la sua presenza nelle bevande energetiche, ma non ha proprietà stimolanti. È stato invece dimostrato che questa molecola è uno degli aminoacidi più interessanti quando si parla di longevità e negli ultimi anni sta emergendo sempre più come elemento essenziale di molte strategie anti-invecchiamento. Ne parlavo qualche settimana fa con un paziente di 70 anni che aveva letto qualcosa a proposito ma temeva di avere un effetto eccitante sul cuore. Invece al contrario dovete sapere che la taurina viene aggiunta alle bevande energetiche proprio per modulare gli effetti della caffeina. In realtà diversi studi hanno dimostrato che questo aminoacido ha un effetto protettivo sul cuore. E come già citato in altri video, la forma migliore di magnesio per la salute cardiovascolare è proprio il magnesio taurato, in cui il magnesio è legato alla taurina. Il problema è che in Italia non si trova facilmente. La taurina è un aminoacido che il nostro corpo produce naturalmente. È particolarmente abbondante nei tessuti ad alta attività elettrica come cervello, occhi, cuore e muscoli. Svolge molti ruoli importanti, dalla regolazione delle contrazioni muscolari alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Inoltre aiuta a regolare il volume del sangue e per questo può modulare la pressione arteriosa. Può migliorare la funzionalità del cuore e ridurre il rischio di scompenso cardiaco. Ha anche effetti neuroprotettivi e può migliorare la funzione cognitiva. È coinvolta nella regolazione dei neurotrasmettitori e può avere un ruolo nella prevenzione delle malattie neurodegenerative. Alcuni studi suggeriscono che la taurina potrebbe rappresentare un supporto nella prevenzione del morbo di Alzheimer e del Parkinson. Qual è invece l'effetto sull'attività fisica? Gli atleti la utilizzano spesso per migliorare la resistenza e ridurre l'affaticamento muscolare. Questo perché la taurina aiuta a regolare i livelli di calcio nelle cellule muscolari migliorando la performance muscolare e riducendo il danno indotto dall'esercizio. Ho già detto che la taurina è un aminoacido prodotto nel nostro corpo ma attenzione, si tratta di un aminoacido essenziale in modo condizionato che significa che il corpo può produrlo ma in alcune situazioni come durante lo stress o l'esercizio intenso. Il dato da cui parte l'interesse della community anti-invecchiamento è molto semplice. I livelli di taurina diminuiscono con l'età ed è qui che entra in gioco il ruolo della ricerca scientifica. Uno studio, tra l'altro piuttosto recente e che vi linko in descrizione, ha infatti dimostrato che la taurina può estendere la vita dei topi del 12%, il più grande aumento visto finora con un integratore. integratore. Inoltre, guardando i grafici della durata della vita dei topi maschi e femmine, si nota subito che la taurina aumenta la durata della vita in entrambi i sessi, cosa non comune quando si parla di molecole che possono avere un impatto sulla aspettativa di vita. È il risultato più significativo che si è emerso finora dagli studi su qualsiasi nutriente o integratore naturale disponibile. Questo 12% potrebbe non sembrare molto, ma, tradotto nell'aspettativa di vita media dell'uomo, equivarebbe a un aumento da 80 a quasi 90 anni. E c'è di più. Questo studio ha anche mostrato che la taurina aumenta non solo la durata media, ma anche la durata massima della vita. In altre parole, non solo potremmo vivere più a lungo, ma potremmo anche raggiungere età ancora più avanzate. Lo studio, infatti, ha mostrato anche un aumento dell'aspettativa di vita tra il 18% e il 25% nei topi anziani. Se vi state chiedendo quanto sia affidabile questo studio, posso dirvi che il campione era costituito da 246 topi, che è un numero considerevole per uno studio di questo tipo. Inoltre, questo lavoro è stato condotto da un team di ricercatori di alto profilo, provenienti da istituzioni rispettabili, il che aumenta la credibilità dei risultati. L'altra domanda che vi starete facendo è quando dovrei iniziare a prendere la taurina? Dovrei iniziare a prenderla subito e per sempre? Nello studio sui topi hanno iniziato l'integrazione a 14 mesi, che equivale a circa 40 anni nell'uomo. Questo dato è importante perché indica che, non importa quando si inizia l'integrazione, probabilmente è comunque possibile ottenere i benefici. Certo, non si sa quali sarebbero stati gli effetti se avessero iniziato prima. Forse si sarebbero visti benefici ancora maggiori, chissà. Tuttavia, ricordiamo che l'invecchiamento è un processo graduale e per questo iniziare l'integrazione a 40 anni potrebbe essere ragionevole. Infatti, molti dei processi biologici associati all'invecchiamento, come lo stress ossidativo e l'infiammazione cronica, iniziano a manifestarsi intorno a quest'età. Un altro punto critico è il dosaggio. Ai topi dello studio è stata data una dose giornaliera piuttosto elevata. Non è sicuramente qualcosa che si può ottenere solo con l'alimentazione, nemmeno attraverso una dieta ricca di cibi contenenti taurina, come frutti di mare, tonno, sgombro, merluzzo, salmone, fegato di manzo, agnello e uova. Infatti, anche con una dieta ricca di questi alimenti, è improbabile superare i 400-500 mg di taurina al giorno. Tra l'altro, vedendo le fonti alimentari, emerge che alcune persone, come chi segue una dieta vegana, potrebbero avere livelli più bassi di questo aminoacido. In conclusione, gli studi ci indicano che i benefici della taurina diventano evidenti solo dopo un lungo periodo di supplementazione. Può sembrare scoraggiante, ma in realtà sottolinea come la taurina potrebbe davvero influenzare positivamente l'invecchiamento a lungo termine. Questo in linea con il concetto che l'invecchiamento è un processo graduale e multifattoriale e che per influenzarlo potrebbe essere necessario un intervento a lungo termine e multimodale. Chi decide di assumere la taurina o qualsiasi altra molecola con l'obiettivo di avere un risultato sull'aspettativa di vita, deve essere consapevole che per ottenere i massimi benefici potrebbe essere necessaria un'integrazione ad alto dosaggio per un lungo periodo, possibilmente per tutta la vita. Immaginate di prendere un integratore per 20 anni senza vedere benefici immediati. Sareste disposti a farlo sapendo che alla fine vedreste risultati significativi? Questo è un aspetto cruciale di tutta la scienza attorno al mondo della longevità, la pazienza. Infatti, molti degli interventi che hanno mostrato di influenzare la longevità, come la restruzione calorica o alcuni farmaci, richiedono un'applicazione a lungo termine prima di mostrare i loro benefici. Passiamo adesso agli aspetti pratici. La taurina è stata somministrata ai topi in una dose unica giornaliera disciolta in acqua. Questo suggerisce che per massimizzare l'assorbimento dovremmo prendere la taurina a stomaco vuoto, idealmente in una dose unica giornaliera lontano dai pasti. Ti ricordo infatti che la taurina è un amminoacido e gli amminoacidi vengono assorbiti meglio a stomaco vuoto, quando non devono competere con altre proteine assunte con il cibo. C'è infine un aspetto importante di cui voglio parlare, ovvero l'impatto della taurina sull'esercizio fisico. Alle dosi comunemente usate negli integratori, 1-3 grammi al giorno, la taurina potrebbe effettivamente supportare la performance e il recupero muscolare. Ma prima di correre a comprare integratori di taurina, dobbiamo considerare attentamente i potenziali effetti collaterali. E questo vale per tutti gli integratori. Naturalmente sarebbe utile effettuare più studi sull'uomo, non solo su topi e vermi, per approfondire ancora di più i meccanismi biochimici e molecolari di questa molecola. Non posso non ricordarti che nessun integratore è una panacea. Una dieta equilibrata, l'esercizio regolare e uno stile di vita sano rimangono i presupposti insostituibili e fondamentali per il benessere generale. La taurina deve essere vista come un complemento a uno stile di vita sano, non come un sostituto. Infatti, mentre gli integratori possono essere utili, non possono compensare uno stile di vita mal sano. In conclusione, la taurina potrebbe realmente rappresentare una molecola pro longevità, ma va presa per lunghi periodi e con alcune accortezze in termini di dosaggio e modalità di assunzione. Il dosaggio, generalmente considerato sicuro e più studiato negli esseri umani, va da 500 mg a 3 g al giorno. Bene, per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.